AgriFake, la seconda stagione. Il podcast che parla di agricoltura, piante e cibo, senza censure e non political correct. Il podcast che dà voce a tutti. Una produzione di Andres Capito. Buongiorno a tutti, siamo a questo ultimo episodio della seconda stagione del podcast AgriFake. E' un episodio semplice. Gli ultimi saranno i primi, così era scritto nella Bibbia. Ma non c'entra niente, questo è l'ultimo proprio della seconda stagione e non sarà il primo. Il primo che si vedrà prima di andare in vacanza, dai. Il primo delle vacanze. Il primo della pausa estiva. Lo registriamo ancora con Riccardo, che abbiamo già intervistato in uno scorso, in un precedente episodio. e vi chiederete perché con Riccardo, perché Riccardo è un grande sostenitore, un grande follower di AgriFake, giusto? Buondissimo, buondissimo. Esatto. Mi addormento, mi addormento. Infatti, guardo Andrea. Alla sera. Con un nuovo materiale, io normalmente mi guardo i video vecchi. Ah, addirittura. Alla sera, al buio, sì, verso un bicchiere di vino, guardo Andrea, da solo. Allora, comunque, questo è un episodio sostanzialmente per salutare tutti e soprattutto per ringraziarli per il grande sostegno e per aver apprezzato, si spera, tutti i contenuti che sono stati creati durante questa seconda stagione. E volevo ripercorrere un po' le tappe, come avevo fatto con la prima stagione, ripercorrere un po' le tappe fondamentali, le tappe salienti. Innanzitutto, tu Riccardo, da quando mi segui, da quando è nato il tutto, giusto? Sì, anche sotto casa. Ma si abita in un altro... Sempre, come privatamente, già ti ho comunicato, apprezzo tanto la tua curiosità, che penso sia per un ambito specifico, che però nel tempo penso ti abbia dimostrato largamente per tante sfaccettature dei diversi argomenti che tu abbia contato, sempre per il cambiamento climatico, l'energia nucleare, addirittura, appunto a tempo, a biologico... Perché questa seconda stagione si è parlato, si è partita dal cambiamento climatico, certo, si è parlato di energia nucleare, quindi anche di sfaccettature riguardanti... Parlare della cultura, anche ambienti, non so, come fare le talie, che è quello del tuo forte, mi sembra. Sì, però quello non sarebbe il podcast, quello sarebbero i... Non devi fare il pignolo, però, fare il pignolo, dai, sei bravo a fare le talie, hai fatto un complimento, adesso ti direi grazie. Ti fanno un regalo, anche se non ti piace, ma mi hai sempre insegnato, se non ti piace il regalo, dici grazie, però metti nel cassetto, però dici grazie, e basta. Ascolta, se ti chiedo, punti forti e punti deboli del podcast e dei miei contenuti in generale, vediamo se sono gli stessi che pensano anche gli altri ascoltatori, cioè se tu devi individuare dei punti di forza, dei punti da migliorare. È tipo un colloquio di lavoro. Sei tu, 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 sei tu. Sì, dai, sei più specifico, dai, che risposta è, Riccardo? Tanto forte, te l'ho già detto, la curiosità. Lo ripeti. Un secondo, sto parlando, per favore, ecco, vedi? Questo è il punto di deboletto. Ti impicci, ti impicci, no, punto di forza, ti impicci. La curiosità che hai, rispetto a tanti argomenti, appunto la sincera curiosità che hai, anche nel fare domande, nel volere scoprire, nella passione che dimostrano, anche per ambiti che magari non sono proprio i tuoi. Magari tu sei un esperto, però appunto la curiosità di volere scoprire, di volere fare, vedere, mostrare e anche condividere con le altre persone. Quello senz'altro. Poi, senz'altro, magari, a livello tecnico, alcuni esempi, lo sanno, nel ledding, nel montaggio. Però anche quello, ad esempio, da quello che mi hai raccontato, no, ti sei messo, guarda dei tutorial, la fare, scoperta dei programmi, applicazioni, no? All'inizio, sì, sì, ti avevo raccontato. Quello che posso, che voglio dire, anche, è che inizialmente ero partito, cioè, da sproveduto, come tutti, ero partito molto da sproveduto, quindi ho sperimentato. Quindi, ovviamente, la qualità video e audio della prima stagione è sicuramente, è stata inferiore rispetto a quella della seconda stagione, ma anche durante la stagione stessa ho fatto alcuni investimenti, tipo acquistare il microfono, ho migliorato il telefono, per i video. Ho migliorato il dettaglio dei capelli, si è peggiorato il dettaglio dei capelli. Allora, stasera, siccome stiamo registrando, sono, voglio sottolineare che stiamo registrando questa puntata alle 10.33 di sera. Cosa? Quante birre ti sei fatto? No, non ho bevuto niente, nulla. Volevo bere, poi, per un discorso calorico, ho detto, no, non bevo, quindi, no, sono tranquillo. Però, eh, sono stanco, comunque, quindi non l'ideale. Fatta una birra, fatta una birra. No, non faccio nessuna birra. E quindi ho migliorato, dai, rispetto, cioè, proprio nel, e anche poi nel montaggio, nell'informazione. Ho migliorato? Ho migliorato. Ho migliorato. Sono migliorato. Hai detto anche, sai, l'uso della grammatica, della lingua italiana, anche quello potrebbe essere effettivamente... Potrebbe migliorare. Un punto dove hai migliorare, dove hai migliorare, dove hai migliorare, sì. Ho migliorato, sono migliorato. Siamo migliorato. Va bene. Molto bene, molto bene. Grazie per la correzione, Riccardo. E, quindi, sulle puntate, invece, per esempio, io ho parlato di cambiamento climatico. Secondo me, allora, io faccio interviste, quindi intervisto tutti. E ho intervistato anche, talvolta ho fatto alcune interviste che, un po' in chiave critica, di esperti che però vedono il cambiamento climatico sotto una chiave critica per alcuni aspetti. Tu come vedi questa cosa? Cioè, secondo te, la mia esposizione a voler intervistare tutti, anche quando si hanno delle idee che discostano molto, magari, dall'opinione più... è più... mi sono incartato. È il bello della diretta, no? No, la posso... È il bello della diretta, è il bello della diretta, Andrea. No, sono stato. Non piangere, non piangere, non piangere, non piangere, è il bello della diretta, dai, piangi, piangi, liberi tutto e poi andiamo avanti, non ti preoccupare, non ti preoccupare, poi la tagli, poi la tagli. Hai capito, però, il concetto? Sì, sì, ho capito il concetto, alla fine. Secondo me, potresti, potresti usare, appunto, la tua, quello che a mio avviso è la tua arma forte, cioè la toglia di sapere, di conoscere, le tue interviste, le tue discussioni. E, appunto, come già ti dissi, tra l'altro, in tempi non sospetti, per cercare di scavare di più, facendo domande, appunto, con l'onesta... Cioè, secondo te devo fare ancora più domande? Tu hai un istante elettuale, da parte tua. Cioè, sei sinceramente curioso di vedere questa persona, che è esperto nel suo ambito X, cosa deve dire su questo argomento. E poi, perché lo dice? Cioè, noi, in alcuni casi, quando magari le risposte o i temi trattati escono fuori un po' così, così, ecco, potresti eventualmente insistere un po' di più. Però, nel senso, imponendo le tue idee, quello, lo fai molto bene, non imponendo le tue idee, in quanto verità assoluta. Però, se mai potresti fare domande, come dire, domandare il perché di alcune cose in maniera un po' più, un po' più insistente. Quello, probabilmente, con l'esperienza ti verrà meglio, specialmente dopo le vacanze estive, dopo le vacanze estive, mettendo i piedi a mollo nel mare, se mai ti verrà meglio. Certo. E un'altra domanda, sulla lunghezza degli episodi, perché alcuni mi dicono che la lunghezza è giusta per affrontare questi argomenti che non si possono affrontare nei 5 secondi, nei 30 secondi dei video reels o formato TikTok. Quindi sono argomenti che devono essere approfonditi con calma, con tranquillità e c'è bisogno di tempo per farlo. Quindi, da un certo punto di vista, c'è bisogno di tempo. Dall'altro, però, si tende poi ad avere un pubblico più piccolo, quindi che non fa chissà quante visualizzazioni, perché sono poche le persone che vogliono realmente approfondire un certo argomento, perché approfondire costa fatica. Quindi, il mio motto è stato quello, chi se ne frega se ci sono meno visualizzazioni, ma preferisco fare dei contenuti per pochi, ma interessati, piuttosto che fare dei contenuti che fanno click, però alla fine non danno niente. Quindi, dal tuo punto di vista, anche di ascoltatore, importante ascoltatore, direi, di agri-fake, cosa vuoi dire in merito? Stai attento che dopo ti trovi le ire di tutti gli altri. Infatti, se dovresti fare tanti click, probabilmente dovresti farti dei video nudo, io penso. Però su quello, non dovresti andare su YouTube, non dovresti andare su un altro YouTube. Bisogna cambiare, bisogna cambiare tutta forma. Un OnlyFans, lì dovresti andare, senza altra, presentarti tutta la tua, tutta la tua veridicità. Ok. Non ho dimenticato la domanda che hai fatto, quindi andrò avanti per andare avanti. No, non andare avanti, ma esiste dicendo troppe cagate. No, però appunto, sono d'accordo con te che appunto... Chi se ne frega, ma anzi, perché non fare... Perché invece che fare delle pillole di interviste, non fare anche delle interviste magari più corpose, anche, non so, di un paio d'ore per dire, con un esperto... Secondo te possono essere anche più? In grado di darti... Sì, 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 senz'altro. Con un esperto in grado di darti e dare al tuo pubblico magari cose molto interessanti, perché sai, anche l'appetito viene mangiando, no? Tu mi insegni dall'alto del tuo trono. Allora, quindi, alla fine, è un argomento che tu puoi affrontare, magari, non so, in cinque minuti o in quindici, ma puoi avere un certo tipo di leggerezza, un certo tipo di contenuto. Magari lo stesso argomento affrontato, se è interessante, se ti è raccontato bene, perché non ho affrontato anche, non so, come una checcherata anche di un paio d'ore, ad esempio. Certo, e lo stratagemma... La stratagemma che abbia la capacità di raccontare. Ok, lo stratagemma di dividere gli episodi, perché normalmente quello che ho fatto in questa seconda stagione, l'evoluzione che c'è stata, è stata quella di fare una registrazione di un'intervista, ma che poi viene spezzata in due, tre, quattro passi, a seconda della lunghezza, in modo che l'intervista è corposa, però viene spezzata per non renderla troppo faticosa per chi magari non vuole stare impegnato troppo tempo. E secondo me è funzionale questa cosa, anche per il fatto che spezzi gli argomenti, perché se tu fai un'intervista molto lunga, puoi toccare diversi argomenti. Se tu la spezzi, poi ogni intervista parla di un argomento. Quindi secondo me è interessante. Vero, oppure anche, non so, facendo degli scursi, dei mini video da due o tre minuti in cui c'è una risposta a una domanda, c'è una discussione su un punto, magari l'interezza della discussione di, che ne so io, le tue cinque giornate di Milano, che ne so io. Ok, per quanto riguarda la nuova stagione, invece, se vogliamo chiamarla così, lo sai che adesso dovrei farlo, devi fare delle mini clip da due minuti, lo sai che dovrei farlo, davvero youtuber, come stai diventando? Assolutamente no. Allora, quello che farò nella nuova, cioè, quella che possiamo chiamare nuova stagione, sostanzialmente, allora, io ho un podcast, che il podcast viene pubblicato su tutte le piattaforme di podcast, e viene pubblicato anche su YouTube. Inizialmente la cosa era... Allora, ecco, una domanda per te, qual è la postazione regina per i podcast? Spotify ancora? Allora, infatti, stavo arrivando questa risposta, perché, allora, io ero partito che all'inizio era Spotify, per me la cosa... Allora, no, tra le piattaforme di podcast, io ho i dati di ascolti, quella che fa più ascolti è Spotify, che fa oltre il 60% di ascolti sono su Spotify. Quindi, tra le piattaforme di podcast, quella più utilizzata, almeno per il mio podcast... Ma per te o in generale... Ah, per te, sono 60%. Per il mio podcast è Spotify, vuol dire che la maggior parte degli ascoltatori che ascoltano il podcast e lo ascoltano su Spotify. E poi dopo ci sono percentuali più piccole sulle diverse altre piattaforme. E YouTube invece? In cui si vede anche... YouTube è proprio una... Cioè, le visualizzazioni che vedi su YouTube sono separate rispetto al podcast, perché è proprio una cosa separata. Quindi viene... Quando io carico, carico in contemporanea il podcast su tutte le piattaforme e poi lo ricarico su YouTube. Quindi sono due caricamenti diversi. Io avevo iniziato a pubblicare che dove la mia piattaforma principale era podcast e poi YouTube era un contenitore per metterli anche lì in modo che potessero ascoltarli anche in formato video. Infatti le prime puntate... Tipo, ho registrato una bella puntata anche con Stefano Bertacchi, che ha scritto diversi libri, anche l'ultimo sulla plastica, ricercatore della Bicocca. C'è solo in formato audio, perché non facevo ancora la registrazione video per YouTube, perché per me la piattaforma principale era Spotify e altre piattaforme podcast. Cosa è successo? Che poi, però, andando avanti, vedo che YouTube funziona molto bene, perché poi fa contenuti comuni ad altri tipi di content... tipo i tutorial oppure quando parlo delle piante e quindi vorrei cambiare un po' il paradosso per la prossima stagione e quindi vorrei pubblicare tutto su YouTube dove mi impegno a fare e non garantisco un contenuto a settimana che può essere o l'intervista all'esperto, può essere il videotutorial, può essere il monologo sulle piante, quindi un contenuto a settimana. Può essere nulla. Può essere nulla se non ci voglio pubblicare niente, però YouTube, quindi, è dove YouTube poi dovrebbe aiutarmi anche nella monetizzazione, eventuale monetizzazione con 5 euro guadagnati al mese tramite le stelle... Ah, il giocamento di 5 euro? No, non gli ho ancora guadagnati 5 euro, però è... Comunque potresti fare come... cosa si chiama? Paperone dei paperoni, Zio Paperone, con il numero uno, il primo nichelino che ha guadagnato lui, il primo nichelino, te li metti lì, te li metti fai... Allora, un euro e un euro l'ho già guadagnato di donazione su YouTube, perché si possono fare i super grazie, quindi qualcuno mi ha dato un super grazie che ringraziamo. No, non è mio papà, arriva dalla Svizzera, dalla Svizzera, è segnato, me l'ho segnato da Svizzera, sì, una piccola donazione, un video. Comunque, cioè, lo scopo sarebbe... Comunque, auguri, auguri e complimenti. Grazie. Quindi questa sarebbe la numero uno di Zio Paperone. No, la cosa sarebbe perlomeno pagare l'attrezzatura per fare il podcast, cioè, non è che voglio guadagnare, non si guadagnerà mai con questi numeri, però lo faccio come hobbista, come tu ben sai, perché mi piace, non per i soldi. Se fosse stato per i soldi, avrei già smesso, anche perché lo faccio a tempo perso, alla sera, al sabato, anche di domenica, di domenica, ho fatto registrazione. Invece che andare a mezza. Invece che andare a mezza, alla domenica mattina. Comunque, a parte questo, cosa stavo dicendo? Quindi, mi impegnerò a fare un contenuto a settimana dei diversi format agri-fake. Quando faccio il contenuto podcast, lo caricherò anche su Spotify e sulle altre piattaforme. Non so se è chiaro. Ma guarda, è cristallino, meraviglioso. È cristallino, è trasparente. Quindi non ho capito, ti funziona meglio YouTube? Cioè, hai più ascolti su YouTube, sui tuoi video, o su Spotify, che il tuo podcast, dipende. Allora, diciamo, su Spotify o ascoltatori fedeli? Su Spotify o ascoltatori fedeli? Quindi, su Spotify fai sempre più o meno una media di ascolti. Cioè, chi ascolta su Spotify secondo me ascolta tutte le puntate, o più o meno tutte. Mentre su YouTube è estremamente variabile, perché ho video che possono caricare, arrivano alle 2000 visualizzazioni, 1500, 1000 visualizzazioni abbastanza facilmente. Ho video che secondo me sono, dal punto di vista scientifico, molto interessanti, che ti fanno 100 visualizzazioni. Quindi, diciamo, YouTube è molto variabile, cioè, può essere tanto o poco, a seconda. E molte volte, quello che voglio anche qua dire, che il tanto non è sinonimo di qualità, perché tipo, ho caricato, l'ho già fatto come esempio da qualche parte, però ho caricato il video, ti prego, ti prego, lo rifaccio, ho fatto il video che, come si vanga l'orto con mio papà, che gira solo la terra nell'orto, cioè, mi ha fatto 1500 visualizzazioni in un attimo, per dire, non fa vedere niente, contenuto scientifico del video, zero, è un piccolo tutorial, facile per tutti, per chi fa l'ora. perché? Ti sei chiesto perché? Aspetta, sì, certo che mi sono chiesto, mentre ho video, appunto, come... Perché tuo padre sa fare le cose, a differenza tua. Quindi appena ho detto il tuo padre, tutto è successo. Se tu vedi nulla di fatto, nulla di fatto. Però questo è un po' il tutto, quindi fammi ancora qualche domanda, dai, ho parlato solo io. Pregami, pregami in ginocchio. Bene, bene, dai. Comunque, sei contento di quello che hai... quello che hai fatto fino ad adesso. Sono contento, sono contento. Cosa ti piacerebbe fare di nuovo, a parte, diciamo, una piccola nuova riorganizzazione, diciamo, a livello di tempistiche, di via di qualche... E di pubblicazione. Che altri cambiamenti ti piacerebbe apportare? Allora... Cosa ti piacerebbe smettere di fare, a parte quello che hai già spiegato? Certo, che cambiamenti vorresti apportare per la nuova stagione? Allora, esatto, a parte quello che hai già spiegato, il cambiamento sono delle collaborazioni che in parte sono già state avviate durante questa... questa stagione, vediamo se continueranno, però abbiamo già fatto qualche video in collaborazione, quindi per dire, il video per scambio di visibilità viene fatto con... o un'azienda, oppure con... può essere qualcun altro, uno scambio di visibilità interessante, una collaborazione interessante da fare, quindi questa è una cosa che vorrei incrementare, se possibile. e la seconda cosa è che sto cercando di collaborare con un professore, e sembra che però non dico ancora niente, quindi vediamo se andrà in porto, però con un professore per registrare tutto il suo corso sul podcast, che viene messo liberamente su YouTube e su tutte le altre piattaforme, sarà di libera fruizione, quindi rimarrà lì per sempre, a disposizione di tutti, proprio come strumento. Infatti, una cosa che non voglio fare, per esempio, è mettere... perché già adesso ho sbloccato per requisiti minimi, il discorso dei contenuti a pagamento, tipo in abbonamento, che tipo i fan possono accedere a contenuti solo per chi paga una sorta di abbonamento. Anche su Spotify potrei farlo, però questa cosa qua non voglio farla, cioè io voglio mettere tutti i contenuti gratuitamente a disposizione, cioè non... quindi mi impegnerò affinché questa cosa la voglio mantenere. Complimenti, complimenti. Ah, una curiosità, qual è la tua puntata, il tuo contenuto, il video, il podcast, quello che ti è piaciuto di più farlo? Cioè... Qualche intervista che ti è piaciuto di più, che ti ha più appassionato, appassionato, che... Poi mi sarebbe detto, ah, che bella cosa che ho fatto, che cose interessanti. Qual è stata la tua... Ma allora... La tua... Il tuo video, l'intervista preferita di quest'anno, o in generale di tutta... Allora... Allora... Allora, dire un'intervista nello specifico, cioè mi diventa difficile, perché ce ne sono tante in realtà che mi sono... Cioè che mi piacciono, mi sono piaciute proprio come contenuti nella registrazione. Però se dico dei nomi, cioè qualcun altro ci rimane male, quindi non voglio dire, cioè... Ma perché non ce n'è una... Quando giocavi quell'Ego? No, quella... O con le mele? Quando giocavi con le mele? Quando giocavi con le mele? Ci sono tante interviste, ci sono tante interviste che mi sono piaciute, alcune che mi hanno divertito proprio fare, sono state divertenti. Cioè, quelle più divertenti che mi sono divertite da registrare, sono quelle con Profpilo. Cioè, lì è stata proprio... Immaginavo, immaginavo. Quelle proprio mi sono divertite. Quelle delle zucche, o quelle sull'evoluzione. Ma diverse, anche quelle dell'evoluzione, che non ha fatto tante visualizzazioni, quella dell'evoluzione, che secondo me è molto bella, quella mi ha divertito, mi ha divertito molto. Quella che ti è piaciuta meno? Non hai detto che ti è piaciuta di più? Dimmi quella che ti è piaciuta di meno. Si può dire, cioè, cosa dico? Mi ha fatto schifo registrare con... No, ma non ci sono... Aspetta, dovrei aprire, però, perché non me ne ricordo. Quelle che sono costate un po' più fatica, un po' più cose per arrivare, per fare... Posso aprirle, perché non me ne ricordo? Le apro da qua. Vuoi condividere, se vuoi condividere con tutti, per te vergogne? Però non condivido lo schermo, accetta. Allora, se carica internet, vediamo, posso fare un piccolo resoconto sulle puntate, così magari posso pubblicizzare le puntate stesse, se qualcuno l'ha saltata qualcuna. Esatto, che argomento interessante, o per dire, questo non guardatelo, che ha vergogna di me stesso. Innanzitutto mi sono cresciuti da quando abbiamo iniziato questa registrazione stasera, che insieme all'altro mi sono cresciuti di altri due iscritti su YouTube, e questa è una cosa che voglio dire a tutti. No, ti devi iscrivere, perché l'iscrizione è importante. Non me l'hai mai detto? No, ma di tutte le puntate lo dico. Non me l'hai mai detto, scusa, a me non me l'hai mai detto personalmente. No, vai a scrivere immediatamente. No, l'iscrizione è importante. E il cambiamento climatico, io. No, no. Allora, allora, vediamo le puntate che ho girato quest'anno. Dunque, ah, quelle del glifosate con Sandroni sono state molto interessanti per me, con Donatello Sandroni sul glifosate, che è un argomento che volevo approfondire. Quello è col prof. Tommaso Maggiore, neanche dirlo, che sono estremamente interessanti, cioè, sentire parlare qualcuno di esperto come il professor Maggiore è stato un grande onore, veramente. e poi, 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 poi ho fatto le puntate sulla carne coltivata col prof. Sia, mi sono piaciute, Avvocato dell'Atomo, veramente interessante sul nucleare, sono uscite tre puntate, ho fatto anche quelle sul castagno col prof. Bellini e questo è stata uno dei pochissimi episodi che sono andato nel paese del prof. Bellini per registrarlo di persona, perché non usava tecnologia, ti rendi conto che bello che è viaggiare invece che stare dietro a un computer? Ecco, su questo voglio dire grazie alla tecnologia, perché finché è un episodio che devi registrare e andare di persona e per fortuna abita anche abbastanza vicina, perché è comunque qua in Emilia Romagna e andate, cioè, va bene, se fossero tutte così non esisterebbe questo podcast. In Spagna come, pensa che bello, ma non esisterebbe il podcast se non ci fosse questo. Adesso staresti mangiando i mangi, i mangi staresti mangiando adesso. Comunque, a parte i mangi, comunque sono state molto belle, belli gli episodi con lui. Allora, poi andiamo avanti, vediamo cosa ho girato sempre quest'anno. Ah, ci sono state quelle con il dottor Cattivelli del CREA di Florenzola Darda, da punto di vista genetico molto interessante. E poi tutte quelle del cambiamento climatico dove ho approfondito un po' la tematica. vedo con piacere che stai iniziando come dire, a parti grande, nel senso cosa vuol dire? A parte crescere in altezza, però stai anche avendo un professore, stai avendo, non si sta mai nella vita, mai dire mai, mai dire mai. La crescita, lo sviluppo si fai nessuno ti vieta di farti uno shottino di ormone della crescita, un po' più stupere o qualcosa. Sto crescendo, non ti paghiamo. A parte i numeri, le cose che stai dicendo, eccetera, a parte le persone che ti guardano, ti ascoltano, ringraziando il cielo tu dirai, no? Esatto, se non ci fossero loro che mi sti, anche con i commenti, infatti io voglio ringraziare tutti gli ascoltatori e anche chi, cioè, molte volte basta un complimento ad un video che dice grazie per il contenuto che hai fatto, è veramente fa piacere. E veramente passa una bella giornata. No, perché dici, ho fatto qualcosa che serve a qualcuno. Diggielo, scusa, veramente è una bella giornata. Ma lo dico, grazie alle persone, grazie agli altri, grazie agli altri, perché tu sei dipendente dagli altri, dillo. Ma certo, se no non lo farei, cioè se lo devo fare per me, vuoi attenzione, vuoi attenzione. No, non vuoi attenzione, lo faccio anche per me stesso perché le interviste sono interessanti per me, stimano la mia curiosità. Però se non ci fossero degli ascoltatori, se il canale adesso avesse ancora 50 iscritti, sicuramente sarebbe già finito. Quindi grazie a tutti quelli che sono iscritti. Quanti iscritti hai? Allora, ad adesso, momento della registrazione, ne ho 937. E magari dopo 938 perché ci sono anch'io. Esatto, comunque sono contento che uno dice che non sono grandi i numeri, in effetti sono piccolissimi, ma stiamo parlando di un settore piccolo. Tu scusami, tu conosci mille persone nella tua vita. Ma probabilmente sì, però... Non tutti hanno YouTube, però. Ma no, ma infatti anche perché la mia media delle persone che conosco è 70 in su, quindi non usano 80 anni. E quindi sono lì un po', non dico data di scuola, data di scadenza, però insomma... Allora, queste cose qua vanno tagliate tutte, ma adesso mi bannano per, come si chiama? Age Shaming. Age Shaming. Age Shaming. No, però la cosa che ti volevo dire io è questa, che la tua crescita, non solo con i numeri che tu stavi alacramente raccontando a tutti. Non dire queste parole difficili che non le capisco. Vabbè, il fatto è che appunto tu stia anche parlando con persone, con esperti veri, stai intrattenendo relazioni e rapporti con persone appunto del mondo scientifico e non solo, importanti, che hanno lavorato tanti anni su certi argomenti, su un argomento, dunque tu stai facendo questioni molto interessanti che appunto stai condividendo facendo una sorta di biblioteca virtuale per poi i futuri e certi tipi di argomenti. Con personaggi di spessore a mio riguardo, non so, sono stato nominato qualcuno, alcuni professori. No, io ho nominato gli ultimi dell'ultima stagione, però ce ne sono tanti altri, cioè non potrei nominarli probabilmente adesso tutti, però io li ringrazio tutti anche per aver partecipato. Infatti, chissà cosa verrà, chissà cosa verrà. Non lo so, magari non verrà più niente, però in ogni caso, in ogni caso... Perché sposti grifosate? Adesso che hai imparato come si usa sposti grifosate. Sì, sono contentissimo che abbiano partecipato tutti e magari mi chiedo, io molte volte mi chiedo ma perché partecipano? Perché alla fine quando gli ho chiesto quasi tutti hanno sempre accettato subito e questa è una cosa che mi fa veramente molto piacere e anche che si prestano così a fare didattica, a divulgazione e devo ringraziare sicuramente quello che mi ha aiutato è stato aver scritto il libro e averlo scritto con il prof Pilo che mi ha dato diciamo quell'autorevolezza necessaria per far partire tutto il resto, lo slancio iniziale perché soprattutto nelle prime interviste cioè io mi presentavo come autore del libro AgriFake e alcuni lo conoscevano già e quindi quello è stato un importante lancio iniziale e il fatto di averlo scritto con un professore universitario ovviamente è quello che aiuta perché se l'avessi scritto da solo io non sono nessuno quindi e quindi il libro mi ha aiutato tanto all'inizio il canale era nato proprio per pubblicizzare il libro cioè il mio interesse era vendere il libro ma anche lì non per una cosa di guadagno ma più per una cosa ma è abbastanza però dopo perché non l'ho comprato alla fine anche questo ho comprato vabbè ti do il pdf dopo dimmelo e ti mando più comunque a parte questo cioè a me è del libro cioè io adesso non lo pubblicizzo neanche più il libro anche anzi dico a tutti gli ascoltatori non comprate un libro stai dicendo con una copertina a proposito abbiamo registrato il brand Agri-Fake è un brand a Camera di Commercio comunque è un brand registrato quindi il libro dico non compratelo il libro perché tutti i contenuti sono sviluppati molto di più nel podcast che è gratuito quindi non c'è bisogno di comprare niente quindi questo è un po' però all'inizio serviva per pubblicizzare dicevo creo dei contenuti in modo che poi mi riallaccio il libro invece adesso ormai non lo pubblicizzo neanche più anche perché poi i libri scientifici diventano vecchi subito quindi ha già due anni andrebbe rinnovato per alcune aspettive è stato l'incipit il libro esatto è stato l'incipit avrei una domanda ancora ma certo ma certo qual è la cosa qual è la cosa più interessante che tu abbia che tu abbia scoperto durante questa tua esperienza non so se è uguale di quest'anno in totale qual è la cosa più interessante che ti abbia scoperto che abbia imparato cioè aspetta scusa imparato ti hai imparato non so il professor Tommaso Maggiore che ti ha insegnato non so questo funzionava così adesso funziona così l'altra cosa è che hai imparato in relazione con i tuoi interlocutori queste sono le cose più interessanti che hai imparato in questo percorso sia a livello tecnico ma poi anche a livello diciamo personale aspetta l'attività che stai facendo aspetta le domande che stai facendo queste sono le due cose più belle che hai imparato cioè allora questa è una domanda difficile perché allora quindi tu mi dici non è a livello di conoscenza tecnica è anche una cosa che hai visto sto qui mi stai dicendo sta cosa sta persona qua di fronte cavolo ah cosa interessante aspetta che gli chiedo ancora di più qui non so qualsiasi cosa e poi anche non so intervistando tante persone penso che tu abbia costruito una serie di cose appunto una serie di conoscenze rispetto a come fare domande come costruire un dialogo con un'altra persona no certo allora dal punto di vista della conoscenza tecnica qui le cose da citare sarebbero tantissime perché per ogni argomento che ho sviluppato mi si è aperto veramente un mondo e per esempio io sono rimasto ma questa è la mia distorsione un po' perché sono molto affascinato dalla storia genetica delle delle piante e mai per esempio quando il dottor cattivelli mi ha spiegato la storia genetica del frumento che non ero mai riuscito a capire appieno perché poi legge anche articoli diversi dicono cose leggermente cioè quindi aver parlato essere riuscito a parlare con un esperto riguardo a quell'argomento mi ha dato tantissima conoscenza tecnica e poi tante curiosità dubbi perplessità che avevo accumulato nel tempo quindi me le ha risolte nel corso di una puntata quindi per me è stato veramente molto molto interessante e per quanto riguarda invece il filone comune di cosa ho imparato da tutte le interviste ho imparato che come parli con un esperto cioè nonostante comunque ho una formazione in agraria o comunque lavoro nel settore agrario cioè parli con degli esperti che hanno dedicato la loro vita spesso ad un argomento abbastanza specifico si apre un mondo di conoscenza dove puoi semplicemente essere curioso e fare le domande però cioè ti rendi conto veramente di non sapere di fronte e quindi la cosa che poi voglio rilasciarmi è che per ogni settore bisogna parlare con gli esperti specifici anche come intervistatore alcune volte non ho azzeccato appieno l'esperto di quel settore magari sono andato a prendere un esperto però non di quello specifico settore e quindi ti dà delle informazioni che sono diverse da chi magari si occupa di uno specifico settore non so se mi sto esprimendo però per dire anche nella perché molte volte anche i mass media oppure dicono c'è l'esperto che ok ma l'esperto di cosa perché sono così specifiche le conoscenze che mi sono proprio reso conto trovi un altro esperto che magari è dedicato invece tutta la sua vita a un settore ancora più specifico rispetto all'altro esperto che ti dà un punto di vista che è più completo e più preciso quindi è anche difficile poi trovare gli esperti non so se o consideriamo sempre che sono le 23.02 di una sera infrasettimanale quindi sono molto stanco nell'esprimere i miei concetti però quanti shottini di vodka ti sei fatto ancora l'ho detto prima non ho bevuto i tuoi ascoltatori di Spotify non ti vedono io non ti vedo tu hai visto tu hai visto non bevo prima all'inizio si sente che non beve si sente si sente ti dà coraggio ti dà coraggio no quindi quindi questa è una cosa cioè veramente la cosa che ho imparato è che esperti ti possono insegnare il mondo però esperti diversi specifici per un settore danno delle opinioni diverse come intervistatore secondo me è importante essere come dicevamo un po' prima essere neutrali rispetto alle alle idee cioè quindi come intervistatore non dovresti trascinarti nelle opinioni trascinarti nelle opinioni cioè esprimere troppo le opinioni dovresti essere neutrale non è sempre facile non è sempre possibile però secondo me è il motto che ho sempre tenuto è quello di dare voce a tutti nel mio podcast quindi io sono per no alle censure e per infatti questa è l'altra cosa che voglio dire chiunque voglia parlare nel mio podcast che si sente esperto può contattarmi anche tramite direct in instagram dirmi di cosa vuole parlare ne possiamo discutere io sono per dare la parola a qualsiasi esperto che sia esperto però di un determinato settore anche con opinioni molto contrastanti dagli altri quindi non ho problemi a pubblicare idee diverse perché sono per voglio dare l'informazione perché la scienza è fatta di discussione la scienza è fatta di mettere in dubbio tutto poi dopo ovviamente l'ascoltatore tira fuori la sua la sua idea finale però dopo che si è fatto un'idea ascoltando i maggiori esperti questo è il mio motto dopo non è detto che riesca a riuscirci non è nessuno è perfetto quindi però nella mia testa l'idea è questa insomma sei in grado anche di umanizzare i casi umani peggiori questo è quello che stai cercando di dire la sintesi attraverso il tuo savoir faire l'unico caso umano sono io quindi tra l'altro una cosa un invito un suggerimento erano molto belli gli interventi che facevi con Cano con Gilberto Cano ah quelli che facciamo nella prima stagione erano proprio belli proprio belli è un peccato che si è andati scemando e scomparti potrebbero essere dei miei ritorni in quanto ci sono molto affezionato quindi si potrebbe reinserire quelle interviste a quell'opinione dei non esperti secondo me Cano no proprio Gilberto sì perché nella prima stagione in realtà c'erano era un formato un po' diverso perché c'erano tante era più però lui c'era quella verve romanesco bolognese bella tosta che ci sta va bene ci proveremo come personalità comunque una persona per ogni cultura non agricoltura però in generale ti può dare qualcosa in più ecco simpatia con lui senz'altro simpatia e buon umore ottimo direi apprezzo molto il suggerimento sì in realtà non è facile neanche scegliere un format perché all'inizio facevo questi format scherzosi dove mettevo dentro la voce di tutti ma perché sostanzialmente erano delle mie lezioni quindi per renderle più leggere mettevo dentro degli spezzoni dar la voce appunto a tutti poi quando ho iniziato a intervistare gli esperti mi sembrava maleducato essere poco professionale nel fare battute nell'inserire spezzoni e quindi questa roba qui per quello è stata tagliata perché cioè io intervisto l'esperto tal dettaglio e poi gli metto dentro degli spezzoni che fanno ridere cioè è come se andassero magari perché non farlo invece che farlo con l'esperto o farlo con non so altri tipi di video di 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 produzioni esatto possono essere dei video adesso che magari ricambiamo un po' come sei detto il sistema di pubblicazione può essere che si butti dentro il video col non esperto ma che possa fare anche opinione riguardo all'argomento e quindi spezzoni più brevi quindi uno spunto molto interessante questo altre domande vostro onore se non viene patria se sei rito santo se tutto questo ma guarda faccio i miei complimenti per questa per il tuo lavoro per la tua passione si vede che appunto ci metti tutto te stesso mi sento idolatrato adesso si dice così il vitello d'oro idolatrato il vitello d'oro il vitello d'oro niente io vorrei chiudere così perché se no diventa lunghissima ringrazio ancora una volta tutti gli ascoltatori che mi hanno sostenuto anche nella seconda stagione spero che lo facciano anche nei prossimi contenuti che verranno pubblicati e questa pausa estiva serve per ricostruire contenuti che verranno repubblicati da settembre ovviamente con la nuova frequenza che sarà un po' diversa rispetto a quella a quella attuale probabilmente poi vediamo un po' come evolve il tutto e ringrazio anche tutti gli ospiti che hanno partecipato alle puntate perché senza di loro non ci sarebbe non ci sarebbero state le puntate stesse anche perché i miei argomenti di expertise erano finiti un bel po' di tempo fa quindi grazie grazie veramente a tutti e grazie anche a te Riccardo per la partecipazione a a ben due episodi eh beh chissà chissà il futuro cosa ci chissà il futuro chissà chissà esatto bene ciao 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 Andrea grazie mille ciao buone vacanze a tutti ciao hai ascoltato il podcast agrifake iscriviti e attiva la campanella per sapere quando uscirà il nuovo episodio inoltre ho un canale youtube e una pagina instagram grazie a presto ciao a tutti ciao a tutti